Una buona serata a tutti, ci rivediamo dopo l'ultimo turno di Serie A, abbiamo fatto qualche giorno senza pubblicare, torno questa settimana finalmente l'appuntamento, se qualcuno piace, di Iconic Team, sempre grazie a chi si è iscritto, vi invito a farlo se la cosa vi può far piacere. L'ultimo turno di Serie A si è giocato tra venerdì e lunedì, c'è stato di mezzo Pasqua, quindi l'appuntamento poi è stato rimandato oggi. L'ultimo turno di Serie A fondamentalmente ci ha detto che il derby di Coppa Italia di ieri sera, che andremo ad approfondire, è lo specchio del campionato. Inter e Milan, ieri valsa una semifinale, può essere una finale di campionato perché hanno fatto bottino pieno tra venerdì e l'Inter prima e il Milan poi. Il Napoli ha pareggiato con la Roma, si è staccato in modo sensibile, ora sono 4 punti dal Milan, potenzialmente 6 dall'Inter con lo scontro diretto a sfavore se dovesse vincere. Sarà 5 giornate dalla fine, se la squadra di Spalletti farà 15 punti io credo che rimarrà attaccata fino alla fine, ma sarà molto difficile a questo punto vedere il Napoli campione d'Italia. Sarà più una lotta milanese, la Juventus se ha mai avuto una possibilità ancora dopo lo scontro diretto con l'Inter non ce l'ha più. In fondo la classifica è un argomento sempre interessante, vedremo oggi il primo dei due recuperi della Sede Arnitana tra Calle 18 e 45 contro l'Udinese. E poi stasera, ne parleremo domani, anche e soprattutto la partita della Juventus. Chi tra Juventus e Fiorentina andrà ad affrontare l'Inter nella finale di Coppa Italia l'11 maggio. L'Inter che ha vinto 3-0, ora questi sono video di approfondimento perché poi andare a ricalcare, riprendere quello che è successo ieri è anche anacronistico. È passato poco meno di un giorno, ma i fatti li sappiamo. L'Inter ha vinto 3-0, i gol di Lautaro, le polemiche per il gol annullato bene a Serra, il 3-0 di Gosens. Ora ci entriamo un attimo in maniera però approfondita anziché cronistica in quello che è successo ieri sera. Com'è finita? È finita 3-0 per l'Inter perché l'Inter ha distrutto il Milan, ha annientato il Milan, no. L'Inter ha saputo capitalizzare al massimo le sue possibilità. L'Inter partiva da una leggera posizione di svantaggio perché con la regola di gol in trasferta, se pareggi 0-0 l'andata in trasferta, poi in casa, sì sei in casa ma sei sempre a San Siro, il precedente non era fortunato, la semifinale di Champions del 2003, soprattutto stiamo sui fatti, se il Milan segna, se la squadra di trasferta segna, poi tu ne devi per forza vincere, ne devi fare due, quindi non è semplice. Se però a tavolino tu facciamo il gioco, ti immagini di segnare, di quando segnare, quali sono i momenti ideali, l'Inter li ha presi tutti perché segna in avvio, quindi il cronometro pesa assolutamente meno e il Milan poi gioco forza, dovrà scoprirsi, dovrà fare qualcosa per andare a pareggiare la partita, per evitare l'eliminazione, il Milan infatti poi dopo il gol di Lautaro Martinez che, per inciso, certifica il fatto che Lautaro Martinez è un top, Lautaro Martinez diventerà uno, se non lo è già degli attaccanti migliori del mondo, ma non da ieri. Ieri è stata l'ennesima conferma, i gol sono fantastici, soprattutto il primo, ma sono gol decisivi in un momento decisivo della stagione e questi li segnano i grandi giocatori, giocatori che mettono la differenza, ieri Lautaro Martinez ha messo una differenza, come la sta mettendo nel campionato dell'Inter, al di là degli alti e bassi, che però lo costringono ancora a essere un grande giocatore, non ancora un top a livello mondiale, ma si arriva, ieri abbiamo avuto l'ennesima conferma, l'1-0 è strepitoso, al di là di una cosa che avevamo molto noi in Italia, poi andiamo a esaltare partite di Premier League della Liga, fantastica, dove si vedono dei grossi errori in difesa, giusto dirselo ieri, Lautaro Mori, soprattutto nel secondo gol, ha commesso una leggerezza, quell'avanzamento per lasciare fuori gioco il 10 dell'Inter, che è un errore evidente, l'1-0 gli lascia spazio, però concentriamoci soprattutto sulla bellezza, che perché Tomori rimane grande giocatore, al di là di ieri, come per esempio De Vrij, al derby di ritorno rimane grande difensore, al di là dei gol di Giroud, Lautaro ieri ha segnato due gol nei momenti decisivi, l'ha aperta in quel modo, con quella botta terrificante sotto la traversa, poi il Milan ha sfiorato il pareggio, il Milan nei punti avrebbe meritato il pareggio nel primo tempo, per quello che ha prodotto, ha avuto l'occasione con Tonali, Leao a strappi, è sempre un giocatore devastante, nell'1-1 il più forte che c'è in Serie A probabilmente non solo, poi l'Inter ha segnato il 2-0, il Milan è mancato il lavoro di Giroud, non era facile, contro Screener, contro De Vrij, fondamentalmente è stata la partita del derby di ritorno del francese, che però poi ha messo la differenza e la sta facendo questa di quella partita, su questo campionato, con quei due gol, però ha faticato molto Giroud, giocatore ottimo, che ci sta la grande, di una squadra che compete ai massimi livelli, in un parco di attaccanti, lui ora è il punto di riferimento centrale del Milan, perché il parco degli attaccanti, dei rossoneri iniziano con Tavi Ibrahimovic, che nel 2022 non c'è mai stato, contava anche Ibrahimovic, che da settembre, che sono più le volte che manca di quelli che è presente, a completare la Rosa e Pellegri prima, l'Azeti ce l'abbiamo visto esordire ieri, per ora non l'hanno dato, ma non era neanche troppo il loro compito. Dietro Leao, il Milan ha questa propulsione a sinistra, con Leao molto largo, che va l'uno contro uno, Teo Hernandez che entra dentro il campo per lasciare Leao a questa possibilità di sfidare l'avversario, dove spesso e volentieri lo salta, mentre la catena di destra manca Calabria d'equilibrio, Salem Eccles d'equilibrio, quando parliamo però dei livelli massimi che vuole competere il Milan, anche solo in Italia, per lo scudetto, manca una catena di destra, soprattutto a livello offensivo, che faccia la differenza, manca la figura del tuo quartista, ieri che si è dato qualcosa, Brian Diaz è entrato, ha creato scompiglio, però parliamo di giocatori che, soprattutto Brian Diaz, doveva raccogliere l'eredità di Cialanobili nel sistema di Stefano Pioli, non ha dimostrato di avere quella continuità nel tempo per essere il numero 10 del Milan, fondamentalmente questo è, il Milan offende, il Milan attacca, il Milan rischia di pareggiare, lo meriterebbe anche, il Milan subisce il 2-0, la connection Correa Lautaro è stata una scelta forte, di Simone Inzaghi, di rinunciare a Dzeko, forse per la prima volta, in un big match di questo campionato, anzi la seconda, perché la prima era stata col Napoli all'andata, Inter 3-2, il gol di Lautaro Martinez, del momentaneo 3-1, che sta mettendo la differenza nel campionato dell'Inter, arriva da una gran palla di Correa, che non è troppo fine al gol, ma Correa a 28 anni non sarà mai un top a differenza di Lautaro Martinez, ma ha i colpi per essere al massimo, le cose che ha fatto quest'anno all'Inter, poche, sono state decisive, perché a Verona Inter, i suoi due gol, danno i tre punti in Erazzurri, nella partita che stava andando incanalando verso un pareggio, Inter-Udinese 2-0, i suoi due gol nella seconda metà del secondo tempo, danno i tre punti all'Inter in un'altra partita che stava avviandosi verso un segno X, l'assist contro il Napoli, l'assist di ieri è geniale, in una partita non esaltante di Correa, che è andato al tiro poche volte, non sempre, anzi, spesso ha perso gli uno contro uno quando cercava di driblare l'avversario, è stato poi sostituito insieme a Lautaro, però quella palla rimane, quella palla è una genialata, di chi capisce un secondo primo a quello che succede, poi Lautaro non si lascia in golosire della Dreaming di Mignon, che gli era uscito col corpo addosso, gli aveva chiuso l'angolatura per provare a driblarlo, è bravissimo col tocco sotto, mandarla dentro per il 2-0, c'è il gol di Benassert, perché il Milan comunque continua a giocare, il Milan mentalmente è rimasto in partita anche dopo il 3-0, quel gol ora, ci sono le polemiche, i milanista ti dirà che è gol, l'interista ti dirà che non è gol, su questo canale le polemiche arbitrali abbiamo sempre cercato, al di là dei colori, di evitarle, c'è una sola persona nel mondo che sa la verità su quel gol lì, è Samir Andanovic, perché? Perché è l'unico che può sapere davvero, in maniera non soggettiva, come stanno facendo tutte le terze parti che stanno esprimendo la loro opinione, se davvero che lui ostacolasse o no la visione del fuorigioco, parere personale, Andanovic anche vedendo partire quel tiro difficilmente l'avrebbe parato, però la regola papale papale, cosa dice? Dice che per essere fuorigioco, il fuorigioco essere giudicato passivo e quindi il gol regolare il giocatore non deve ostruire in alcun modo la visuale dell'avversario, c'è un frame, poi attaccarsi ai frame fa anche abbastanza leader, però c'è un frame in cui Andanovic si sposta verso destra, secondo me, ripeto, non ci sarebbe mai arrivato su quel pallone, però fa un passo dalla direzione opposta dove va il pallone per capire che cosa, per vedere dove parte la palla, il problema è perché era ostacolato da De Vrij o da Calullo, questo lo sa solo Andanovic e il caso credo che rimanga lì, il Milan avrebbe meritato di segnare, il 3-0 passivo è un risultato esagerato, è il risultato che poi ci ha detto il campo, non c'è questa differenza tra l'Inter e Milan, però nel momento decisivo della stagione l'Inter ha dato una bella sferzata, ha conquistato la finale di Coppa Italia non credo che questo risultato avrà risvolti sul campionato, anche perché il Milan, ripeto, è stato in partita dal primo al donantesimo, al di là, che poi il tabellone luminoso reciti 3-0 e soprattutto qualificazione dell'Inter che certifica cosa che è completamente mentalmente tornata dentro al campionato, non è la squadra di novembre, non è la squadra di dicembre, è un paragone questo temporale che lascia un po' il tempo che trova, è l'Inter che deve essere per queste ultime sei partite, il Milan però c'è, è presente, sarà un duello che durerà fino alla fine, fino alla fine noi resteremo qui sul nostro canale a commentare quello che succede a partire dalla partita di stasera tra Juventus e Fiorentina.